Una sconfitta oggi significherebbe la parola fine alla stagione di questa squadra. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-5-1 votata all'attacco per loro con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. A spazio, prova! E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Lato, Gonzalo Gedes. La rimessa con le mani per il Valencia. Garai. Sarà ancora fallo laterale. Davin Neres. Gran tiro. Portiere che svetta la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Palla sul fondo. Ci sarà il calcio in angolo per l'Ajax. Attenzione al tiro. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Il difensore spazza in qualche modo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Spazio per il Valencia lungo l'out. Gonzalo Gedes. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata da loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Rodrigo. Santimina. Buona l'inquisizione qui. Cross. Inutile questo. Non c'era nessuno. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. De Jong. Van de Beek. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. De Jong. Dolberg. La traiettoria verso il centro. Traversione che si perde senza possibilità. Buona lettura del difensore su un brutto passaggio. Può contare sulla... Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione. Ed ecco il gol. Che cambia la storia della partita. Sono in parità. Sono in parità. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riesce a bloccare, attenzione, il riflesso controlla il pallone con sicurezza. Apre il gioco. Palla schizza via dopo il contrasto, sale Tadic, guarda il movimento in area. Neto. Neto. Gonzalo Guedes. La rimessa con le mani per il Valencia. Van de Beek. Ziyech. Ziyech. Attenzione, la palla è lì. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Buono il pressing, recuperano il pallone. Palla vagante. Tadic. Tadic. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Palla allontanata dal portiere. Gonzalo Guedes. Tadic. 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 Calcio d'inizio del secondo tempo, affidato al Valencia. Vedremo se cambierà il tema tattico in questa ripresa o se le due squadre manterranno lo stesso atteggiamento della prima frazione di gioco. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Salgono anche i difensori su questo corner, un pericolo in più per loro. Tilo dalla bandierina corto. Cochrane. Occhio, fischio dell'arbitro, sarà il rigore per il Valencia. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Vorrà fare molta più attenzione adesso. Non sbaglia. Grande prendezza per la trasformazione dagli undici metri. Precisa conclusione. Il potere non poteva farci nulla. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Gonzalo Guedes. Si riprenderà con un fallo laterale. Ziyech. Tadic. Van de Beek. Carlos Soler. Palla nuovamente in possesso. Occhio cerca l'area di rigore. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. David Neres. Apre il gioco. Cross in mezzo. La respinta di pugno. Rodrigo. Ziyech. Dolberg. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Dolberg. Buono il recupero del Valencia. Cerca la sovrapposizione. Può girare il pallone. Ziyech. Ancora un passaggio perfetto. Gabriel. Pareco. Carlos Soler. Rodrigo. Garai. Un altro ottimo passaggio. Pareco. Palla persa. Dolberg. Lato. Gonzalo Guedes. L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ho sbagliato il controllo. Mazarui. De Jong. Dolberg. Ballone che è uscito. Sarà rimesso dal fondo. Armato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comodo l'intervento del portiere sul tiro della distanza. Grazie a tutti. Palla in out, sarà rimessa laterale. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. C'è il tocco sulla fascia. Cerca il traversone. Traversone che si perde senza possibilità. Tadic. Può metterla da lì. Piccini. Ferran Torres. Garai. Ci sarà rimessa laterale per il Valencia. Vas. Consalo Guedes. La mette in mezzo con questo pallone. Si imbola il difensore. Si stanno impegnando per difendere il risultato di parità. In caso di sconfitta dovrebbero dire addio alle speranze di titolo. Lotteranno con le unghie, con i denti nei pochi minuti che mancano. Spazio per il cross. Occhio al cross sul primo palo. Restringe di pugno. Palla vagante adesso. Pallore intercettato senza problemi. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Ultimi cinque... Gran palla in mezzo. La mette lunga sul palo lontano. Peccato. Era un buon cross. Arbitro che assegna il calcio di punizione. C'è aria di cambio. Piccini. Pareco. Ferran Torres. Rodrigo. Tadic. Prova con lancio lungo. Accalciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Non era facile colpirla al volo e far gol da lì. Lato con Salo Guedes. Il quarto uomo segnala due minuti di recupero. Grande recupero. Splendida lettura difensiva in un momento chiave della gara. Palla intercettata. Sfuma l'occasione. Grande intervento. Sventa qui la minaccia. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Rodrigo. Tira il respinto dal difensore. Riconquista palla intercettata. Perì.